Salve a tutti friends, al vostro supercorris, eccoci qua ragazzi, classico appuntamento del martedì con la domanda della settimana Questa settimana la domanda me la autofaccio, perché non è detto che le domande le possiate fare solo voi Ci sono anche delle domande che mi faccio da solo, perché quando vedo un bell'articolo, una bella notizia, mi viene da pensare Ma è così? Questa persona sta dicendo il vero oppure no? E mi riferisco per chi mi segue sul canale degli Shorts, a cui vi invito a iscrivervi, perché comunque un canale dove vedete le notizie arrivano sempre in anticipo rispetto a poi ai video Perché non sempre ho 20, 30, 40 minuti per registrare un video Alle volte faccio la Shorts e vi anticipo la notizia, poi con calma la riporto sui video Nico Rosberg innanzitutto chi è? Per chi non lo conoscesse, campione del mondo 2016, pilota che in pista ha battuto Lewis Hamilton Quindi non l'ultimo degli arrivati, pilota che poteva correre tanto ancora perché si è ritirato che nel 2016 aveva 31 anni Pilota che non ha mai avuto peli sulla lingua e questo a me mi è sempre piaciuto, perché? Perché è stato un pilota sostanzialmente di qualità eccelsa in pista, perché è stato forte e anche fuori perché è stato un pilota comunque che ha detto sempre le cose in faccia Quindi non seguendo i protocolli di una Formula 1 dove ci sono sempre dichiarazioni ovattate, lui ha sempre detto quello che pensava in faccia agli altri Quindi, grande talento, grande professionista, persona schietta, ecco perché a molti sta sulle balle, a me no, io mi sono sempre ritrovato Rosberg ha rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti a cui andiamo a rispondere Come al solito l'invito è quello di iscrivervi a questo, al canale Supercorris Gamer, a quello degli Shorts, a quello della palestra con a disposito Personal Trainer Continuiamo a donare in beneficenza, ragazzi non è detto che si dona solo a Natale, anche un euro donatelo, mi raccomando perché continuiamo a raccogliere soldi da donare in beneficenza C'è il canale Telegram delle offerte Supercorris Offerte Amazon, ieri vi ho messo tutti i volanti migliori di Amazon in offerta C'è il canale ufficiale Supercorris 84, vi ho chiesto se volete vedere un ricordo all'appena scomparso Ken Block, mito dell'automobilismo, vedremo se farlo su questo sul secondo canale E c'è Fruittraber Canale Viora Allora, cosa ha detto Nico Rosberg? Nico Rosberg ha detto, vedo Ferrari sfavorita rispetto a Red Bull e Mercedes nel 2023 perché il discorso di cambiare così spesso Team Principal sicuramente non giova al team di Maranello Effettivamente, quando si ritira Rosberg, c'era, arriva bene, poi è arrivato Binot, adesso è arrivato Vasser Sostanzialmente, ragazzi, è quello che io vi dico sempre Secondo me, Ferrari non sta traendo giovamento da questi cambi repentini di Team Principal Ho fatto un video, andatelo a recuperare sul canale, dove vi ho fatto vedere tutti i Team Principal cambiati da Ferrari in quest'ultimo periodo In questi ultimi 30 anni, da Jean Todde addirittura Come? O non hanno vinto per niente o ci hanno messo anni a vincere L'unico è stato Domenicali, ma quando Domenicali prende la Ferrari nel 2008 Praticamente la stessa Ferrari lasciata da Jean Todde che fa anche il supervisore tra cui Quindi vedete che non vale tanto quel discorso Il discorso vale tutti i Team Principal, l'arrivati che dovevano vincere, dovevano dare una svolta a Ferrari e non ci sono riusciti L'unico è stato Jean Todde, ma dal 1993, anno in cui si è insediato, ha vinto nel 2000 Cioè, capite qual è il discorso? Un fenomeno Non stiamo a parlare di uno stupidarello Che poi comunque se l'ha lottata negli anni prima bene, ma non ha vinto Gli arriva bene, poi Domenicali, poi Binot, purtroppo non hanno vinto nulla Hanno fatto retrocedere Ferrari invece che avanzare, perché dopo l'epoca Jean Todde, Ferrari è solo retrocessa Non solo non ha vinto più un mondiale, ma non è riuscita mai, a parte proprio quelle due volte con Alonso Per miracolo, a lottare per il mondiale fino alla fine Quindi, giustamente, Rosberg dice, aver cambiato l'ennesimo Team Principal è un errore Era meglio dare, a sto punto, fiducia a Binot e metterci a fianco altre figure, quello che dico io Era meglio tenere Binot, anche come Team Principal, magari metterci a fianco il supervisore politico Alla Jean Todde, o alla Rose Brown, come cazzo si chiama E metterci a fianco uno che magari dirigeva l'area tecnica Sollevandolo da alcune responsabilità Questa poteva essere una delle soluzioni Invece si va a perdere un motorista comunque importante, eccellente Perché la Ferrari che aveva il supermotore nel 2019, Binot l'aveva fatto E sostanzialmente si riparte da capo Vassar sarà in grado Ora sono tutte domande che ci facciamo Sarà in grado perché Vassar ha vinto nelle categorie inferiori Conosce Leclerc, è un Team Principal stimato all'interno del Circus Ma quali abilità ha Vassar per vincere un mondiale? Lo vedremo fra due mesi Perché fra tanti ripartono i test e tutto E noi saremo qua a seguire tutto, dalla presentazione ai test Perciò ragazzi, Rosberg innanzitutto lancia questa prima bomba E lui non ha modo di parlarne per tornaconti personali Un po' come fece Horner Dice, ma io negli ultimi anni mi sono seduto davanti a 6 Team Principal diversi Ferrari Buttando la solita battutina là per andare a penalizzare Ferrari Rosberg non ha questi coinvolgimenti Ha detto semplicemente una cosa sinceramente Poi dice anche un'altra cosa molto importante Che anche io vi sto dicendo Ovvero Max Verstappen Rosberg dice Verstappen per me è uno dei 5 campioni più forti della storia Perché ha una freddezza incredibile Ha una bravura incredibile E mi aspetto vinca ancora tanto E quello che vi ho detto io ragazzi Sì, piloti costruiti, forti come Max Verstappen Che a 16 anni già stavano col culo su una Formula 1 E ti hanno iniziato a vincere i mondiali così presto Ragazzi non se ne sono visti Soprattutto contando che Verstappen avrà la continuità di collaborare con lo stesso team Per altri 5 anni Se non sei Quindi Se il team Red Bull rimarrà al top Verstappen potrà lottare e vincere diversi mondiali E in un'età che non c'è manco 25 anni Ragazzi questo può riscrivere tutte le regole della Formula 1 E tutti i record Perché ragazzi c'ha un talento enorme Io vi ho detto Leclerc Lo adoro È un pilota eccezionale Ma Leclerc ad oggi Non è Verstappen Dobbiamo essere molto sinceri con noi stessi Perché dopo ci andiamo a creare delle illusioni Che non ci Non ci permettono di vedere la realtà Leclerc ad oggi è inferiore a Verstappen Perché Verstappen ha una migliore lettura di gara Verstappen quando qualcosa O il team lo mette in difficoltà E capita poche volte Perché Red Bull è fenomenale Anche da quel punto di vista Verstappen ti legge La situazione e ti dice per esempio No continuo con queste gomme Continuo a fare questo Continuo a fare quest'altro Sostanzialmente quindi Non dipendendo dal team Come fa Leclerc Purtroppo Leclerc è Enormemente dipendente dal team Ancora adesso Anzi L'unica volta che l'ha fatto quest'anno Ad Abu Dhabi Ha detto Sai che Continuo con queste gomme qua È arrivato secondo Verstappen C'ha più cattiveria in pista L'abbiamo visto Sia nei confronti diretti Con gli altri piloti È cattivo Non si tira mai indietro Sia Nello sfruttare Tutti i pertuggi E Le possibilità Che ti dà il regolamento Non a caso Abbiamo visto Cito Jedda Verstappen Recupera quasi un secondo In virtual safety car Leclerc Semplicemente perché È stato più attento Al delta da seguire Leclerc si fa Infinocchiare dal delta E se lo ritrova dietro E poi davanti Verstappen ragazzi È un pilota Che da tutti questi punti di vista È fenomenale Poi ha già vinto Vincere aiuta a vincere Aiuta a creare una mentalità forte Perciò Quello che vi dico io Verstappen è un fenomeno E sarà difficile batterlo Ci vorrà Un avversario forte E un team forte Ferrari ce l'ha queste caratteristiche Ad oggi Io dico Sono molto 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 preoccupato E non penso Poi si vedrà Quello che accadrà In futuro Magari Tutte le regole Si possono riscrivere Però ad oggi Secondo me La probabilità di vedere Un dominio Red Bull Per diversi anni È concreta Con una Mercedes Che si prova a inserire Mano a mano Magari ti può vincere Anche quel mondiale Ma comunque Io vedo una Red Bull Favorita su tutti i livelli Perché Ha lavorato meglio È arrivata meglio A questa situazione Ora Rosberg è stato molto sincero Ha detto Io se dovessi Spendere un soldo Un euro Non lo metto su Ferrari Perché Mercedes Per forza di cose Tornerà su L'abbiamo visto Durante il 2022 È tornata su I regolamenti Sono cambiati In favore di Mercedes Per l'ennesima volta Aumentando l'altezza Delle vetture Ancora Red Bull È una corazzata Che da tutti i punti di vista Ovvero piloti L'unica cosa Che di Red Bull Io Posso criticare Secondo me È l'anello debole Rimane Perez Se noi andiamo a valutare Ragazzi L'anello debole Di Red Bull È Perez Perché a livello prestazionale L'abbiamo visto Durante una stagione Sono più le volte Che fa cagate Non le volte Che va bene E a livello di rapporti Con Verstappen Siamo ai minimi storici Quindi Perez Potrebbe creare problemi Potrebbe non accettare Ordini di scuderia Potrebbe avere Delle battaglie in pista Problematiche Con Verstappen Ma se accade Una cosa del genere Ragazzi Red Bull Prende E lo caccia via Al volo Mettendo Ricciardo Ecco perché Si deve leggere L'ottica dell'assunzione Di Ricciardo In questo modo Perciò è chiaro Che se lo dice Gente come Rosberg Che comunque Anche se si è ritirato Sa come funziona Il Circus Sa come funziona Il Paddock Ci sta ancora dentro È evidente che C'è una base C'è una base di realtà Sotto Quindi Rosberg Dice quello Sostanzialmente Che io vado dicendo Da diversi mesi Spero di sbagliarmi Spero che le cose Poi siano davvero diverse Ma ad oggi Se io devo dire Favorita 2023 2024 2025 Io metto la Red Bull Sempre davanti Ed è più probabile Che sia la Mercedes La rivale di Red Bull Che comunque Ha una stabilità Di tutto il suo reparto Corsa E non la Ferrari Fatemi sapere Che ne pensate Ci vediamo I prossimi video Ciao